buongiorno spiriti vi do il benvenuto in questa nuova stagione del podcast di spirito della natura semi di strega oggi non sentirete la consueta sigla semplicemente perché questa puntata in collaborazione con antonella di madreluna.it perché vogliamo parlarvi di un argomento molto molto interessante ovvero la connessione tra la ciclicità femminile la ciclicità di madre terra non ce ne vogliano i maschietti per questo podcast un po' selettivo voi sapete che qui sul podcast di spirito della natura gli argomenti sono per per tutti quindi in questo caso però in questa collaborazione lavoreremo con le donne quindi vi invito a girare questo podcast se siete uomini alle vostre compagne sorelle madri anche figlie se vi può interessare far far loro un percorso di consapevolezza sul proprio ciclo ovulatorio e vi lascio quindi alla puntata e a tutti gli argomenti e temi che andremo a trattare io e antonella e rimanete fino alla fine perché vi sveleremo proprio un progetto in merito vi abbraccio ci sentiamo nelle prossime puntate e ancora un grande benvenuto un bentornato a chi a chi è già presente su questo podcast da tanto per inaugurare questa nuova stagione delle nostre puntate di podcast a prestissimo con altre storie benvenute donne oggi ho il piacere di condividere questa puntata con una donna di potere una strega dei giorni nostri lisa di spirito della natura ciao lisa come stai ciao anto grazie per avermi invitata sono molto molto felice di esserci benissimo carica siamo in autunno la mia stagione preferita quindi sono super carica anche per iniziare questo percorso bene bene passato il caldo quello che ci abbatte adesso con il fresco ci stiamo un pochino riprendendo allora lisa ed io ci siamo conosciute molto tempo fa grazie ad instagram giusto esatto per la passione comune verso la natura in primis i ritmi naturali la tradizione celtica anche se così possiamo dire è proprio tutto ciò che concerne la ciclicità esattamente sì sì e so che forse qualcuna di voi alla parola strega si è magari fermata perché effettivamente so che può evocare cose strane per cui prima di andare avanti lisa se vuoi puoi darci la tua versione spiegando meglio che cosa significa per te essere strega oggi certo volentieri anzi ci tengo molto perché sono molti fraintendimenti su questa parola e quindi vorrei proprio evitare che insomma ci sia questo questo alone di di mistero che insomma un po ci sta però non deve essere un mistero brutto allora la strega fondamentalmente nel tempo anche passato era di base una guaritrice la maggior parte delle persone che sono state etichettate come streghe erano guaritrici levatrici quindi persone al servizio degli altri al servizio della guarigione quindi non so cosa ci sia di brutto in questo ma c'è stato un periodo veramente buio della nostra storia che in tutto questo ha visto del male soprattutto perché c'erano ragioni politiche ragioni religiose e quindi c'è stato proprio un ribaltamento del nome strega oggi si associa il nome strega all'uccello notturno come se fosse qualcosa di molto negativo qualcosa un animale che addirittura si dicesse succhiava il sangue quindi questa strega che va di nuovo il sangue bambino in realtà l'uccello notturno è un uccello che ha una capacità di visione ha una capacità di volare nella notte ha una capacità di attraversare i mondi il mondo diurno e notturno quindi ha una grande saggezza e se prendiamo sta parola e la togliamo dal vocabolario italiano e andiamo a prendere witch ad esempio in inglese già troviamo l'aspetto della saggezza dell'anzianità quindi nella parola strega anche in italiano per quanto poi hanno voluto farci credere il contrario c'è tutto un aspetto di saggezza saggezza interiore conoscenza anche qualcosa che arriva da un passato arcaico perché poi la conoscenza prima si passava soprattutto di madre in figlia da bocca a orecchio quindi non era qualcosa di accademico no come pensiamo oggi di scientifico forse era proprio questo il problema che andava un po in contrasto con i nuovi poteri che stavano nascendo quindi a fare questa introduzione proprio storica oggi la strega ed edita alla natura ed edita alla riconnessione con la natura aiuta gli altri a fare questo quindi è comunque una persona che ha il servizio degli altri per mio conto sono un'operatrice olistica quindi sono veramente anche lavorativamente parlando al servizio degli altri e lo faccio cercando di riportarli ai cicli naturali perché secondo me è lì la chiave del benessere proprio lì la base non tanto la chiave la base diciamo partire da lì poi sopra ci possiamo costruire qualsiasi cosa perché riscoprire il nostro ritmo naturale fondamentalmente è riscoprire appunto la nostra ciclicità che può voler dire tante cose ma oggi poi ne parleremo insomma non mi dilungo oltre se hai domande chiedi pure ti ringrazio moltissimo per aver definito un po meglio questa parola che può evocare cose particolari anche se chi mi ascolta e chi ti ascolta è sicuramente open minded quindi ha un'apertura mentale diversa però è vero che parlare oggi di strega magari ci fa pensare a rituali così strane quando la base proprio la base è la connessione con la natura e la connessione con un vivere ciclico perché come dicevi te quando i poteri forti o in qualche modo lineari produttivisti purtroppo incarnati dal maschile quindi qua non è che stiamo condannando il maschile ma quei poteri comunque erano incarnati da dagli uomini ecco quando è arrivato quel momento lì che cosa è successo che si è vista proprio cambiare una mentalità cioè dal dalla mentalità ciclica per cui tutto si sussegue c'è un ritmo naturale che è palese a chi guarda a chi occhi per guardare lo vedi la alternarsi delle stagioni quando è subentrato un nuovo modo di fare di produrre di lavorare e di concepire il mondo questa ciclicità si è persa e siamo entrati nella linearità e allora oggi essere una persona connessa essere una strega a proprio la base di quello che stiamo dicendo è semplicemente essere collegata alla natura essere collegata alla ciclicità che la natura ci mostra fuori di noi con la consapevolezza che quella ciclicità esiste dentro di noi che è un po il punto di incontro tra me e te ovvero sul fatto che noi donne soprattutto noi donne siamo esseri ciclici che funzionano a fasi dico soprattutto noi donne perché comunque anche gli uomini più consapevoli ormai si stanno rendendo conto che la ciclicità è una questione naturale umana che oltrepassa il genere perché perché non è che gli uomini non hanno una ciclicità hanno una ciclicità più legata al sole se così vogliamo semplificare perché tutti gli esseri umani in realtà sono ciclici perché tutti gli esseri umani sono parte della natura quindi adesso ho fatto una sorta di bambola matriosca per cui ho aperto varie bamboline però tendenzialmente la questione è che quando siamo delle persone profondamente connesse con una con un ritmo che non è lineare siamo dentro una ciclicità e fondamentalmente la strega di oggi si basa su quella ciclicità quindi non c'è niente di strano ecco volevo arrivare un po a questo punto dopo questa lunga dopo questo lungo preambolo quindi noi siamo entrambe donne entrambe madri in questo caso entrambe connesse ad una dimensione di vita che vuole essere quanto più vicina a questo famoso tempo ciclico e non lineare perché perché a un certo punto della vita ci siamo accorte che correre 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 non era ciò che volevamo non era ciò che riuscivamo non era sostenibile forse in qualche modo ci siamo anche sentite in colpa perché oggi nella nostra società chi non riesce ad essere sempre super produttiva super performante super lineare non è tanto ben vista peccato che la nostra natura sia questa perché perché se sei connessa alla natura sai che non puoi essere sempre estate hai che non puoi essere sempre produttiva quindi cosa vedi tu rispetto a questo discorso qui a questa giornalità che vive un po anche dentro di noi sì assolutamente hai toccato dei punti importantissimi la natura ci fa proprio chiarezza sul nostro ritmo e ci mette davanti la possibilità almeno all'inizio quindi non un obbligo perché una società di oggi è molto difficile iniziare a dire ok mi fermo che è rallento diventa appunto complicato anche per il nostro senso di colpa quindi andiamo per gradi intanto osservare la natura ci mette proprio davanti che ogni fase prendiamo ad esempio di un seme ha bisogno del suo tempo per potersi esprimere quindi non possiamo certo pretendere che il grano maturi a dicembre non è proprio naturalmente possibile quindi se iniziamo a osservare la natura quindi a prendere in considerazione almeno prendere in considerazione questo invito tutte le persone che ci stanno ascoltando a farlo inizia a essere più semplice poter capire che la stessa cosa accade in noi piano piano col tempo quindi iniziare ad osservare già solo le quattro stagioni quindi capire che un albero non può produrre frutti in autunno ma che l'autunno è una fase fondamentale per l'albero per rinnovarsi quindi non ci potrebbero essere i frutti senza quella fase di rinnovamento di perdita di discesa perché perché in autunno che cosa fa l'albero va a spogliarsi di tutta la sua diciamo bellezza la sua quasi esteriorità vogliamo dire quello che lo lo definisce quell'albero perché se ci pensiamo poi la foglia è anche un po quello che ci permette di riconoscere i vari alberi insomma di distinguerli in autunno l'albero perde proprio quella sua caratteristica principale e che cosa va a fare perché la perde perché si concentra o meglio la sua energia è concentrata nel nutrire le radici quindi in tutto quel mondo sottoterra sotterraneo senza quello non è possibile che l'albero produca nuove foglie non è possibile che torni ad essere lui rinnovato cresciuto ha cresciuto questo provate a immaginarlo su di noi se noi non andiamo a lavorare in autunno e in inverno sulle nostre radici su quello che c'è dentro di noi i nostri intenti i nostri desideri i nostri sogni ma come possiamo pensare di metterli in atto senza un piano senza un sostegno proprio radicale questo ci ci mette proprio davanti la nostra simbiosi e simmetria con la natura quindi già iniziare ad osservare le stagioni è già un buon modo per capire come noi funzioniamo nello stesso modo di un albero nello stesso modo di un animale che in determinati periodi dell'anno fa figli e determinati periodi dell'anno si ritira il letargo perché perché fa freddo perché c'è meno cibo perché quindi se c'è meno cibo deve muoversi meno noi non abbiamo questa esigenza perché abbiamo i supermercati però in un mondo appunto agricolo passato dei nostri antenati questo accadeva quindi c'era necessità di chiudersi da qualche parte per sopravvivere al freddo per sopravvivere alle malattie alla carestia alla carenza di cibo proprio quindi manca il cibo non posso lavorare nei campi perché lavoro nei campi mi richiede troppa energia in più la terra del campo è talmente dura che non riuscirà nemmeno a metterci insieme ok quindi partiamo da questo presupposto su questo si fonda poi tutta tutto un calendario appunto agricolo che noi ancora oggi conosciamo tu prima parlavi di feste celtiche io mi ispiro al calendario neopagano quindi ormai è calendario neopagano non c'è diciamo più niente di tradizionale ecco perché se volessimo entrare proprio nella tradizione dovremmo rispolverare delle cose un po secondo me anacronistiche a mio avviso e poi magari c'è chi lo fa mi saprà dire mi saprà contraddire però ecco già prendere di riferimento ispirarci a quelle feste festività stagionali ci fa capire come il nostro animo umano ha sempre risuonato con la natura e quindi il lavoro dei campi era scandito dalle stagioni il raccolto era scandito dal dal movimento del sole la semina era scandito dal dal fasi lunari e dal appunto dalle fasi stagionali l'uomo non è mai stato disconnesso dalla natura ha iniziato ad esserlo quando entrato nel tempo lineare quando ha perso di vista quella ciclicità appunto sia naturale ma anche personale perché perdendo di vista il fuori è automatico che si perda di vista il dentro proprio come in uno specchio quindi inizio a sentirmi lineare anch'io inizio a sentire che devo arrivare dal punto a al punto b e quindi si entra in quella frenesia di produzione sempre attiva mai senza sosta quindi non c'è più quella fase di riposo di radicamento di anche di di far niente non mi viene da dire difficilissimo oggi dire fai niente quindi ecco questo è quello che mi sento di portare in questo percorso perché è proprio base fondante della nostra vita della nostra vita in quanto umani quindi in quanto esseri naturali ecco sì sono d'accordo con tutto ciò che hai detto è sicuramente la fase del riposo è la fase che ci fa più paura perché è una fase che ci mette proprio faccia a faccia con il fatto di non essere produttivi se non siamo produttivi non siamo ben visti dalla società perché la nostra società dice di produrre sempre ma non si è mai visto appunto come dicevete un albero che produca sempre frutti per cui la questione di ritornare ad una ciclicità ci consente di pacificarci con il fatto di essere umani perché un tempo lineare è un tempo che non è umano il tempo lineare il tempo della macchina la macchina va avanti la catena di montaggio va avanti con le sue macchine che ta 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 vanno sempre avanti anzi non si possono fermare perché se si fermano hanno poi dei problemi quindi in realtà quello è un tempo che viene fuori dall'industrializzazione non è un tempo umano questo noi donne lo sentiamo ancora di più perché questa ciclicità noi l'abbiamo dentro l'abbiamo nel nostro ciclo mestruale che io preferisco chiamare ciclo ovulatorio e chi farà il percorso con noi capirà perché che è proprio la dimostrazione più chiara e più palese del fatto che siamo esseri ciclici perché perché ogni mese dentro di noi avvengono dei cambiamenti cambiamenti ormonali che portano a farci avere la mestruazione che è la conseguenza dell'ovulazione che è la conseguenza del piccolo follicolo che crea l'ovulo eccetera eccetera quindi qua già iniziamo a vedere che noi non abbiamo tutte le giornate uguali le nostre giornate sono governate da cambiamenti ormonali che creano dei cambiamenti fisici ma anche emotivi ma anche energetici ma anche di voglie alimentari sessuali professionali che ci rendono ahimè per questa società ma per fortuna per la nostra umanità degli esseri ciclici quindi ci danno un potere se vogliamo così definirlo che ci permette di attraversare diverse fasi che sono caratterizzate da diverse energie per cui se sei una donna sai che c'è una fase preovulatoria dove c'è un'energia di solito non dico per tutte ma di solito un po più di creatività di leggerezza poi c'è una fase ovulatoria dove c'è magari più voglia di connettersi con gli altri poi c'è la fase premestruale che invece è un tempo del ritiro la fase mestruale il momento del rilascio quindi già dicendo solo queste cose ci rendiamo conto che noi non possiamo essere tutte uguali con le altre e uguali sempre a noi stesse per cui ogni giorno noi siamo un pochino diverse e questa diversità si vede molto bene sulla mensilità quindi sulla nostra ciclicità mensile che si ricollega guarda caso con la ciclicità lunare è un caso no non è un caso questa è la meraviglia proprio della natura il fatto che tutto è collegato e che purtroppo prese dalle nostre vite dai nostri doveri dai nostri sacrifici dalle nostre corse questa roba ce la dimentichiamo ma è una grande meraviglia c'è la meraviglia di poter stare a contatto con la natura solo essendo quello che siamo cioè non dobbiamo fare niente di strano niente di esotico l'unica cosa che dobbiamo fare è conoscerci quindi come dicevamo all'inizio proprio la base la base non percorsi strani scoperte esoteriche che dobbiamo fare la base è proprio semplicemente conoscere il fatto che siamo cicliche e questo ci aiuta tantissimo a prenderci cura di noi stesse in maniera profonda onorando ciò di cui abbiamo bisogno in ogni momento in ogni fase questo proprio ci permette di avere un approccio totalmente diverso alla nostra vita vai lisa se vuoi aggiungere qualcosa a questo per la risposta ci sentiamo nella prossima puntata del podcast con la seconda parte qui